ciao ragazzi oggi video flash molto estemporaneo per un motivo ben preciso perché ho saputo che c'era in edicola a un euro soli a soli un euro ragazzi una nuova collana dedicata a mordillo grande 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 grandissimo artista per chi conosce la soffitta per chi mi conosce sa che io adoro questo artista e volevo spacchettarlo insieme a voi questo è come si presenta con tutto il cartonato molto molto bello c'è anche un post edito da aschette che dopo l'ultima esperienza io me ne guarderei bene dall'abbonarmi però questa è una cosa mia insomma dopo che si è visto quello che hanno fatto con braccio di ferro me ne guarderei bene da parte mia dall'abbonarmi primo numero un euro dal secondo numero 5 99 poi non so se andrà ad aumentare ma ribadisco non mi interessa perché dopo le esperienze passate ma nascette allora stacchiamo il poster così vi faccio vedere un po tutto ma soprattutto stacco il volume rimuovo che bel rumorini rimuovo il volume cartonato addirittura cioè ragazzi questo ha un euro non ve lo dovete lasciare assolutamente scappare eccolo qui si presenta molto 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 bene direi guarda ma che meraviglia mordillo ragazzi io spero che anche voi siate dei fan questo grandissimissimo artista non so se questi siano a tema perché qui vedo vedo gli animali poi ci sono le tavole mordillo quelle dedicate agli animali alla giungla al mondo dello sport chi lo conosce sa riparisco comunque c'è un video sulla soffitta dedicato al mordillo ve lo lascerò alla fine del video così chi vorrà lo vedrà ragazzi nel frattempo mollate questo questo video e correte subito in edicola a prendere questo volume perché a un euro mordillo non si può lasciare in edicola un bellissimo volume cartonato non si può lasciare in edicola a questo prezzo scusate se sono ridondante nel dire le cose ecco qui questo il posterino questo anche anche incordiciato con una cordice al giorno è bellissimo secondo me da avere in camera ragazzi il video finisce qui iscrivetevi al canale della soffitta di pippo per avere sempre vecchie e nuove news e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto ciao a tutti buone vacanze buona continuazione ciao ragazzi